Oh bella raga, bella raga, lo scorso trailer mi ha fatto cagare ma oggi sono carichissimo vai Nonna, potevi dirmelo eh, cioè potevi dirmelo che ti avevano inserito in Pokemon Sole e Luna Eh, e perché non me l'hai detto? Ah, non sei tu? Eh no perché è identico, cioè anche la tua stessa festeglia da notte, cioè uguale, è più spaccato Poi ti mando la foto su Whatsapp tranquilli No non sei tu, ma sei sicura? Ma non è che ti hanno fatto delle foto a caso, sicura, sicura, sicura Ah, ok, ok, va bene, va bene, va bene, scusami, ciao, ciao, ciao Orco Giuda una pigna no, ti prego no, una pigna no, una pigna no, una pigna è una pignata Ti prendo abbastonate sul serio, una pigna cosa sei? No, allora, cioè, allora, a parte il fatto che se lo giro al contrario è un Beyblade e ci si sta, va bene Ma un altro Pokemon Strabico, un altro, perché sta cosa? Questo è strabico, è il concetto stesso di strabicità Strabicità, oddio, ma perché? Perché non ne fate uno decente? Poi una pigna, cioè, il prossimo cos'è? Ramoscello E vabbè Ah, pure un pittore adesso, perfetto, perché no? Ci avevamo la prostituta, perché non mettere il pittore? No, ma mi sembra giusto Frate, dipingimi la cappella, ma non la sistina, la cappella Dio, no, cioè, allora Perché sei scatarrato sulla coda? Parliamone Quella roba lì, non ditemi che è pittura verde È catarro, palesemente Questo qua sta male, portatelo all'ospedale Fategli un trappianto, qualcosa, salvatemelo Che sta morendo Cioè, guarda, nella faccia c'è la sofferenza Quella linguetta fuori, cioè Ma... Costituzione minorile Gli ho beccati, stronzi Vabbè, ok, io ho capito che la barriera corallina si sta estinguendo Che dobbiamo proteggerla e salvaguardarla Però se guardo sto coso mi estingo io, è un problema Ma perché? Ma poi un corallo, cioè, nel senso Come fai a fare un Pokémon da un corallo? Ma lasciali in fondo al mare i coralli, non portarli nei videogiochi Che poi, oddio A parte quella bocca lì a forma di triangolo Che, cioè, non si capisce Poi c'ha Cosa c'è? Perché è metà rosa E poi c'ha i quadrattini E poi quelle gambe, vabbè, non parliamo di sé Quelle lì sono gambe Io sono Gesù Cristo Oddio Cosa sta succedendo? C'ha le croci di Gesù C'ha le croci di Gesù sulla schiena Sì, sì Free Wi-Fi Non ci credo Finalmente Cosa? Perché? Allora, innanzitutto partiamo dai tuoi occhi Che non sono occhi Sono trapanate nella testa E poi perché hai delle lische? Al posto delle guance Che cosa mi stanno a significare? Non puoi ficcarti i pesci nelle orecchie Non, 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 non Che tipo di attività sessuale hai mai? Ficcarsi i pesci nelle orecchie Io non lo so Va bene che devi soddisfare i tuoi desideri Però, cazzo Almeno Almeno Non andare in giro così Ti prego Sei bruttissimo E vabbè dai Almeno risparmiano gli oculisti Dai Ci sta Quanto mi manca la prima genna Almeno risparmiano gli oculisti